Allora vediamo queste altre immagini del derby Abbiamo queste immagini esclusivissime Allora c'è Berlusconi che parla con Murigno Guardate attentamente eh Murigno gira, si gira Qualche cosa fa? Sbuffa, come dire Porca miseria, rivediamo Si può fermare un attimo le immagini di Murigno Dopo il colloquio con Berlusconi Phantom! It's possible! Ecco, guardiamolo bene, ecco Ma era la tensione No, era la tensione un corno Allora, cosa ha detto, facciamo saggio Cosa ha detto Berlusconi a Murigno per farlo sbuffare così Allora, vediamo un po' A. Gli ha chiesto se vuole prendere Feltri come maggiordomo 1 B. Gli ha raccontato per l'ennesima volta la barzelletta del francese, del tedesco e del sardo C. Gli ha chiesto il numero di telefono di sua nipote Noemigna Secondo voi? Allora, noi chiediamo agli italiani di votare Cosa ha chiesto? Allora, noi chiediamo agli italiani di spri성are